A Makung, capitale dell'arcipelago delle isole Pescadores, le autorità locali gli hanno dedicato recentemente una piazzetta e una statua e prima ancora la cittadinanza auroraria. Stiamo parlando di un uomo, un medico, un camigliano. È padre Davide Luigi Jordan, originario di Schio, formatosi qui a Verona nella casa madre dell'istituto camigliano e poi partito per l'Oriente, la Cina, Taiwan, le Pescadores per trent'anni. Un uomo di Dio apprezzato e conosciuto che non si è mai risparmiato verso i malati. Io ho lavorato con lui per sei anni, l'ho conosciuto quando era nel sanatorio come dottore, poi ho lavorato con lui per sei anni all'isole Pescadores. Eravamo noi due, l'ospedaletto sui 80 posti letto e lui era giorno e notte e mi meravigliava che durante la notte, a volte lo chiamavano anche cinque volte e lui si alzava, poi tornava e dormiva. E veramente era dedito al servizio, infatti quando nelle parti passava lui la gente era soddisfatta. Ricordare oggi quest'uomo, quest'uomo di Dio, che cosa vuol dire per lei? Per me vuol dire trovare uno che fa del suo lavoro, in questo caso dell'aspetto sanitario, i suoi interessi. Quindi lui cercava, per quanto fosse possibile, di istruirsi sempre di più sul suo lavoro di assistenza ai malati. A parte che lui ogni mese donava il sangue, è stato a Taiwan forse quello che ha fatto più donazioni di sangue. Verso padre Jordan anche i veronesi provano affetto e per merito dell'iniziativa e della costanza del signor Mario Presa, proprio questa mattina l'amministrazione comunale ha deciso di dedicargli i giardini tra via Quinzano e via Cesare Bresciani, vicino alla casa madre dell'Istituto Camigliano. Un segno di stima non solo per l'opera svolta da padre Jordan in Oriente, ma anche per la sua generosità nel dono del sangue, convinzione costante di una vita passata accanto ai malati bisognosi di cure e di sangue, ribadita ancora una volta dai vertici dell'Avis veronesi intervenuti alla cerimonia di oggi. Una testimonianza, direi un messaggio di messa a disposizione verso il prossimo, unico, quasi santificato di una persona che ha dato la propria vita per il prossimo e credo che anche in questi momenti storici dove anche spesso e volentieri la cronaca ci riporta invece messaggi negativi, dare testimonianza ai giovani, ai ragazzi, a coloro che usufruiranno di questo spazio, di questa figura, di questa persona per quello che ha dato non solo a Verona ma direi un po' in un ambito internazionale che deve essere un significato importante.